ciao vi dico la mia riguardo a questa custodia per texas t inspire cx castle lo comprate essenzialmente per tenere protetta la mia texas andiamo a guardarlo un attimo dall'esterno beh come avete visto c'è un gancio di metallo dove poter non so agganciarla ulteriormente magari ad uno zaino una cerniera abbastanza robusta e scorrevole l'esterno è solido quindi da un senso di sicurezza diciamo che una plastica dura abbastanza gommata in termini di dimensioni abbiamo misurarle subito insieme abbiamo allora all'incirca 23 centimetri per 11 centimetri e mezzo uno spessore o meglio un'altezza di circa 3 centimetri andiamo ad aprirlo adesso l'interno è in velluto abbiamo questa rete per inserire all'interno i cavetti della texas ovviamente non arriva all'interno della custodia della texas questa qua ce l'ho messa io ma è inutile dirlo comunque abbiamo anche qua una parte di velluto soffice e arriva anche con questi queste parti in velcro che appunto potranno essere attaccate direttamente dietro la la texas così che quando poi andate a riporla si evita che balla e che viene via quindi nel complesso la trovo una custodia resistente dei buoni materiali niente male